Montecorno è il film prodotto da Visioni Future con la regia dell'Aquilano Luca Cococcetta, presentato oggi in comune. L'attore protagonista del film girato sul Gran Sasso è Massimo Poggio, che interpreta nella fiction Francesco De Marchi, colui che compì l'epica impresa della prima scesa sul Corno Grande del Gran Sasso. Il film, a 450 anni di distanza, ripercorrerà fedelmente il percorso che portò De Marchi sulla vetta del monte più alto degli Appennini. La produzione e gli attori già sono sul set da giorni. Una storia incredibile che merita di essere raccontata per la sua valenza storica e culturale, ma anche per mostrare la bellezza del Gran Sasso e dei suoi borghi. Tante le realtà locali e non che hanno sposato il progetto, come CAI, Comune dell'Aquila, assieme ad altri comuni, Consiglio regionale, Fil Commission e tanti altri. Terminata la seconda fase delle riprese, ce ne sarà una terza, una sessione di ripresa documentalistica assieme al noto alpinista Erwe Barmasse e a Mario Tozzi, ricercatore e divulgatore scientifico. Sono due anni di preparazione, volevamo farlo bene, per noi è una storia che ha anche dei risvolti personali, ovviamente, perché siamo innamorati del Gran Sasso. E poi c'è tutto l'aspetto storico, di ricerca, che è interessantissimo. Quindi sì, siamo molto contenti. Tra l'altro abbiamo girato in vetta e questa è una cosa che ci rende orgogliosi perché è stata veramente difficile portare un'intera troupe e fare delle riprese di fiction appunto sulla vetta, quasi a 3.000 metri. Non è la prima volta che partecipo a un film di montagna, nel senso che qualche anno fa avevo fatto una fiction che raccontava l'impresa del 1954 degli italiani sul K2. Però è la prima volta e diciamo che in quell'occasione si fingeva di essere molto in alto. In realtà in questa occasione noi siamo andati davvero molto in alto, quindi tutto ciò che si vede è reale, nel senso che anche la fatica che si vede è reale. Quindi meraviglioso, insomma. Immaginiamo che lei quindi sia ben allenata. Diciamo che cerco di... mi piace molto andare in montagna, quindi questo sicuramente. Non sono uno scalatore, non sono un arrampico, però mi piace molto andare a camminare e salire, andare verso l'alto, anche in bicicletta. Per cui diciamo che non sono particolarmente allenato, però è una cosa che mi piace molto.